E' stata senza ombra di dubbio una sfida all'ultima scheda, quella tra il neosindaco Ivan Costantini e Pietro Tribuiani. Ma superata la fase dei festeggiamenti, ora bisognerà iniziare a pensare alla nuova squadra di assessori che affiancheranno Costantini. Sono dieci consiglieri che entreranno a far parte della maggioranza in consiglio comunale. Due seggi vanno a Giulianova Turismo con Paolo Giorgini e Marco Di Carlo, prima volta per entrambi ed abbe due operatori turistici. Giorgini che gestisce due lidi sul litorale giugliese ha totalizzato 314 preferenze. Di Carlo, titolare di un hotel e presidente di Feder Balneari tra i ruoli, è stato anche presidente della consulta comunale del turismo. Per la lista Costantini sindaco entrano in consiglio lidi Albani, Paolo Bonaduce e Giulio Garzarella. Un seggio per Giulianova in movimento con Katia Verdecchia, uno per l'altra Giulianova con Paolo Vasanella, due alla lista verso con Federico Taralli e Simone Paesane e uno alla lista al centro per la città con Antonella Guido Baldi. Tra i dieci che si siederanno sui banchi della maggioranza del consiglio comunale ci sono tre donne e di queste solo la Verdecchia viene da un'esperienza amministrativa, essendo stata assessora al bilancio nella giunta di Mastromauro. Mentre nell'opposizione per un totale di sei consiglieri siederà in consiglio per la Lega Pietro Tribuiani, candidato sindaco del centrodestra al suo primo impegno istituzionale, come anche Gianni Mastrilli, che prima delle amministrative era stato candidato alle regionali, sempre per la Lega. New entry anche per il giovane Matteo Frangioni, il più votato, che ha totalizzato 383 preferenze. Gli alti tre seggi vanno al raggruppamento civico che fa capo a Franco Arboretti, candidato sindaco del cittadino governante, già consigliere comunale di opposizione, Pietro Carrozzieri di Giulia Viva e Fabio di Dionisio del cittadino governante. Per quanto riguarda la nuova squadra di giunta, che il neosindaco Costantini dovrà comporre, iniziato già il totonome, ma si dovrà ancora aspettare qualche giorno anche per scoprire il numero di assessori che il primo cittadino deciderà di affiancarsi. Ricordiamo che con l'ex sindaco Mastromauro la giunta era composta da cinque assessori. Grazie a tutti.